E' ormai chiaro che in Liguria in azione una banda specializzata in furditi e apparecchiature mediche per esami endoscopici. Il primo colpo si era registrato all'ospedale Galliera di Genova, poi era stata la volta di Albenga e quindi ben due colpi sono stati messi a segno al Santa Corona di Pietraligure, mettendo in ginocchio l'Az Savonese, rallentando notevolmente gli esami per i quali vi erano già lunghe liste di attesa. Ora è toccata Imperia. Il furto è stato scoperto questa mattina, ma si presume sia stato messo a segno nella notte fra sabato e domenica scorsi. I ladri, che hanno dimostrato di sapersi muovere a colpo sicuro, approfittando dalle poche telecamere di sorveglianza presenti in ospedale a causa delle disposizioni sulla privacy, hanno forzato gli armadi in ferro del quarto piano, dove sono custodite le sofisticate e costose attrezzature per esami e rubato le sonde che vengono impiegate per gastroscopie, broncoscopie e conoscopie. L'Az Savonese sta correndo ai ripari, spostando gli esami urgenti a Sanremo e ha chiesto alla ditta fornitrice l'invio urgente di nuove sonde per non arrivare al blocco degli esami. Intanto la polizia scientifica questa mattina ha compiuto dei rilievi e ora sono in corso indagini da parte della squadra mobile della Questura di Imperia.